... ... Come siete, bello... è incredibile ho visto dalle vizie ma l'avuto che sono io ma l'avuto che non sono altro soldi in tasca non ne ho ma lassù ne è rimasto Dio voglio vedere se vediamo quelli di Brescia eh io ho già visto quelli che hai visto ma hai sentito le voci tu? l'accento? o c'era il cartello? no no bravi bravissimi 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 ciao ciao c'è uno piccolino dentro c'è una sola razza quella umana ma l'avuto che non sono altro con l'in tasca non ne ho ma lassù ne è rimasto Dio tanto che sono io ma l'avuto che non sono altro Ah, sono quelli di Roma! Ah, sono quelli di Roma! Ciao! 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 Ma guarda chi c'è! Oh, che fanno! Oh, qui c'è, qui c'è! Ma pensa! Allora, tu c'è genero! C'è tuo genero! Dove sono gli altri della tua compagnia? Sì, siamo una decina da qui! Sì, i quattro non sono venuti perché non eravate! Ecco! Ecco! State andando giù? Sì! Eh, fatti! E gli altri? Vengono da presto! Bene! Sì! Siamo... ...quatti vivi! Te la racconteremo con calma! Te la racconteremo con calma! No! Ah, eh, dai qua! Guarda qua! Tu è scolano materno! Posso, 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 posso! Abbasso, abbasso, abbasso! Sì! Bravi! Bravi ragazzi! Eh, 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 eh! Allora, no, eh! Eh! Grazie! 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 ... Ehm... ... ... ... Grazie. Quanti lavate? 15 noi, quelli della Slow. Oh, oh, oh. 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 Grazie.